Ciao caro, benvenuto in questo nuovo video. Io sono Elle e da questo momento in poi mi prenderò cura di te. Quindi assumi una posizione comoda, possibilmente stenditi e ascolta solo ed esclusivamente la mia voce e concentrati sulle mie mani e sul trattamento che sto per guardi. In principio voglio che tu ti apra completamente con me e che non pensi a nulla, perché in questo preciso istante ci siamo solo io e te. Va bene? Ok. Bravo. Ora che sei un po' più rilassato inizierò il mio trattamento. In cosa consiste? Bene, ti accompagnerò nel sonno. So che sei una persona abbastanza stressata e che ha bisogno di dormire. Come lo so? Perché hai aperto questo video. Quindi, Elle si prende cura di te. Ora guardami bene e raccontami tutto quello che ti è successo durante la giornata. Io ti massaggio la fronte con le mie manine d'oro. inizia. Sì, puoi raccontarmi tutto. Cose belle e cose brutte. Ti tocco alle sopracciglie. Ah, mi dici che è stata una brutta giornata. Come mai, tesoro? Ti hanno ferito? Quale parole? E beh, quelle feriscono di più. Che è uno schiaffo? Che è un calcio? Le parole sono molto più brutte. Ti hanno fatto sentire inutile? Ti sei sentito inutile? Ah no, 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 non andiamo bene. No. Prima regola. Non sentirsi mai inutili e inferiore a nessuno. E sai perché? Perché? Perché anche quando noi crediamo che non facciamo niente durante una giornata, in realtà facciamo sempre qualcosa. Quindi, se è bene che male, non potremmo mai considerarci inutili. Anche solo se respiriamo siamo qualcuno. Ricordalo. Quindi ti hanno insultato. beh, ma anche se non credono in te, problema loro. Non sanno cosa si perdono. Bisogna imparare a valorizzarsi. È fondamentale. Sì, è fondamentale non mi guardare così. Non sto dicendo nulla di impossibile. Semplicemente la verità. E se te lo dico è perché ti capisco. È perché anche a me molto spesso capita di sentirmi inutile. Però poi la vita è talmente bizzarra che ti pone davanti certe situazioni che ti fanno completamente cambiare pensiero. Quindi, come oggi ti è capitata una giornata negativa, domani può capitarti una positiva. Bisogna sempre pensare in positivo. Fa bene. Fa bene alla salute. Fa bene a noi. Specie se si è già tendenti di natura a pensare cose negative, ad essere pessimisti. Segui i miei video e mi dici. Grazie, mi fa piacere. Un immenso piacere. E comunque, siccome questi occhiettini che hai sono abbastanza stressati, io so che tu sei qui perché hai bisogno di riposarti e di dormire. Dunque, ci sono io a darti una mano. Tu non devi fare assolutamente niente. Devi solamente ascoltarmi e lasciarti andare, cosa fondamentale, cosa fondamentale. Allora, da questo momento ti mostrerò una cosa molto personale. Una cosa a cui tengo tantissimo. Ti accompagnerò nel sonno tramite una pratica diciamo che proverò a ipnotizzarti. Chiamiamola l'ipnosi di El. Vai. Allora, come iniziare? Come si svolgerà la cosa? Tu mi racconterai di te, anche nei minimi dettagli, quello che vuoi. E io ti mostrerò questa bellissima collanina. Questo ciondolo, lo vedi? Bene. Cosa rappresenta? Esattamente, una chiave. Questa è la collana del sonno di El. E' fine di questa collana perché El non ha mai avuto problemi di sonno. Anche se fa video il sonno. Diciamo che vi faccio per aiutare persone come te. Quindi, questa è la collana del sonno e questa è la chiave. La chiave che apre le porte del sonno e dei sogni anche. Per questo ti chiedo di parlarmi di tutto. Progetti, sogni, idee. Ho anche uno sfogo. Io farò tondolare questa collana e tu la guarderai attentamente. Mi raccomando, guardala. Perché altrimenti tutto l'effetto non ha senso e non funzionerà. Iniziamo. Dammi tu il via. 1, 2, 3 Guarda la collana. Ora è lei la protagonista del video? È lei che ti aiuterà e sarà la tua attenzione a farti cadere nel sonno. Seguila con gli occhi e non pensare più a nulla. Nulla ha più senso. Esiste solo tu ed io. Ti senti solo? No, 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 in questo momento non sei solo. E non lo sei mai. Se sei accompagnato di te stesso, non sei mai solo. E ancora meno in questo momento. Ci sono io. Come tondola destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Ti stai rilassando. Ti stai rilassando. Si vede? Hai gli occhi più socchiusi. E sei tremendamente bello. Le persone rilassate sono così belle. E' per questo che molte persone dovrebbero vedere e appassionarsi all'smr. Perché si diventa persone più calme. Per lo meno è il momento in cui si sta vedendo il video, ovviamente. E poi bisogna sempre migliorarsi, tesoro mio. Sempre. E ricordare che noi stessi siamo le persone più importanti per noi. Continua a guardare la collana. Il ciondolo che va a destra e a sinistra ogni tuoi tempi. Uno, due, uno, due. Man mano la vedrai sempre più chiara. E sempre più lenta. Me ne accorgerò. Sì, sì, sì. Me ne accorgerò quando il sonno ti starà chiamando. Uno, due. È bellina, vero? La collana biela. E funziona davvero. È unica. E sai perché? Perché ha un potere particolare per ogni persona che la vede. Per te può avere un senso e può avere un effetto. Per un'altra persona può averlo completamente diverso. Come in ogni cosa. Come ogni persona ha la sua visione soggettiva. ecco, non ti importa più di nulla? Esatto. Questo è il primo effetto del sonno. Quindi le persone vanno considerate? No, bravo. Il parere degli altri? Nemmeno. Bravissimo. Chi conta nella vita? Tu. E ovviamente le persone leali e che realmente ti amano. perché esistono le persone buone. Non esistono solo quelle cattive. Io non penso che esisti la cattiveria. Credo nella perfidia. Il caniverso. Bravo. Su, chiudi gli occhi. Stai sorridendo. Sei ancora più bello. Le persone felici sono bellissime. Perciò, se vuoi essere bello, sii felice. Prendi le cose positive anche in quelle negative. Ci sono sempre. E come si dice, se la vita ti dà 100 motivi per piangere, tu dà ne 101 per sorridere. Bisogna sempre dare un motivo in più per sorridere. Il sorriso è così bello. E tu poi, potresti fermare una guerra col tuo sorriso. Potresti rendere felice il cuore anche di una persona più triste. Perché il sorriso è il più bello accessorio che una persona possa indossare. Ora conterò fino a 30. Finché tu ti addormenterai tutto da un colpo. Tutto in una volta. Uno. Due. Guarda con l'altra. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quindici. Sedici. Diciasette. Diciasette. Diciotto. Diciannove. Venti. Sì, bravo. Lasciate andare. Ventuno. Ventidue. 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 Dormi tesoro mio Lasciati andare Io me ne vado Il mio lavoro qui è finito E' giunto il sonno E' venuto lui a prenderti Buonanotte guerriero Io credo in te Combatti sempre Buonanotte